Fratelli Juventini e Sorelle Juventine, oggi, grazie alla rubrica Campioni in Stori, ideata e curata da Ludovico Longhi e dal sottoscritto, ho il piacere di parlare di colui che io ho sempre ritenuto i più grandi centravanti che io abbia mai visto giocare con la maglia delle Juve. Io ho amato tantissimo David Reseguet, ho amato tantissimo Paolo Rossi, ho amato tantissimo Roberto Bettega, ho amato tantissimo il Pipita Higuain, lo sapete. Mi è piaciuto molto anche Mario Mangiuchis quando i primi due anni giocò centravanti, ma signori, signori, questo personaggio, Carlitos Tevez, è secondo me veramente uno dei giocatori più grandi che abbia mai vestito la nostra casacca. Vinceva le partite da solo, un po' come Ronaldo, io lo metto subito dopo Ronaldo, sinceramente. Noi tendiamo a mettere nelle classifiche dei grandi della Juventus i classici, Platini, Ronaldo, Del Piero, Zidane e Omar Sivori, diciamo che sono quelli considerati. Guarda caso sono tutti dei 10 di fatto, perché Zidane giocava a 7, ma 21 per la precisione, ma giocava in un ruolo defilato perché c'era Del Piero, ma se non ci fosse stato Del Piero la maglia 10 andava sulle spalle di Zidane. Carlitos Tevez è il classico centravanti che ti distrugge l'avversario. Avete presente? Non è quel centravanti come Triseguet dove arriva la palla e lui la butta dentro perché aveva un fiuto del gol pazzesco, difatti era l'unico vero originale Cobra, no? Oppure Leroy II, secondo re dopo Platini. Oppure Bettega che era molto bravo di testa, si sapeva infilare tra gli spazi. Oppure Paolo Rossi che era l'opportunismo fatto persona, sbucava fuori improvvisamente dove meno te lo aspettavi e ti metteva la palla dentro con dei tappini incredibili. No, lui no, lui si inventava i gol. Io ho ancora negli occhi un gol che fece a Dortmund in Coppa dei Campioni, in trasferta. Un tiro, un siluro, da fermo, da 30 metri. Niente da fare per i portieri del Dortmund. Il gol che fece al Parma, scartando tutta la squadra del Parma, scartò quasi sette giocatori del Parma per poi depositarla in rete. Questi sono solo alcuni dei gol che fece. Segnava quasi sempre. Gli davi la palla, era quasi impossibile che sbagliasse. Urlavi al miracolo quando la buttava fuori. Veramente un giocatore. Quando lui disse che voleva tornare in Argentina per problemi di famiglia, sapete che aveva problemi con la... il papà di Carlitos aveva problemi di delinquenza, no? Quindi c'era la mafia argentina che in qualche maniera lo ricattava. Insomma, lui per star vicino alla famiglia decise di tornare anzitempo rispetto al suo contratto in Argentina. Che tra parentesi per lasciarlo andare ci facciamo dare i giocatori tra cui Betancourt, quindi ha fatto un doppio danno, nel mio modo di vedere. Cioè, oltre ad aver perso lui, ci siamo beccati anche questo pippone. Quindi, io che cosa posso dire? Io posso dire che questo giocatore, prima di dare la parola a Ludovico che vi darà il dettaglio specifico, perché lui è lo storico di questa rubrica, io invece sono il narratore così emozionale, vi dico che Carlitos è stato un giocatore che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Quando noi andammo in finale a Berlino, sinceramente, io ve lo dico con tutto il cuore, io ci credevo. Ci credevo perché avere la squadra con la BBC e Buffoni in porta, centrocampo di Pirlo, Pogba e Vidal con Marchisio pronto ad entrare dalla panchina, in avanti Morata e Tevez, io sinceramente, anche se avevamo di fronte il più grande Barcellona negli ultimi vent'anni, ero convinto che ce la potevamo giocare. E di fatti fu così, perché fino a che l'arbitro Kakir, maledetto ovunque esso sia, mi dispiace se vedrà questo video, ma maledetto ovunque esso sia, non dette a rigore, Marcio, sacro santo, su Pogba, atterrato da Dani Alves, lì la partita cambiò, il Barcellona prese coraggio e passò sul 2-1, dovevamo passare noi sul 2-1, si trasformava a rigore, ma Tevez non sbagliava a rigore, garantito. Passavano loro sul 2-1 poco dopo e poi vabbè, la Juventus si scoprì per cercare di recuperare e prese il terzo gol sul finale della partita. Quindi io di Carlitos Tevez avrò sempre e solo un ricordo meraviglioso, rimarrà sempre nel mio cuore come il più grande centravanti che, a mio modo di vedere, ha vestito la casacca della Juventus. Purtroppo non ha avuto la longevità di carriera nella Juve che ha avuto lo stesso Treseguet, perché Treseguet giocava una vita nella Juventus, già Paolo Rossi giocò qualche anno in più, Bettega giocò tanti anni nella Juventus. Il Pipite, ecco, diciamo che è un po' come il Pipite, il Pipite è un altro grande argentino che purtroppo è stato trattato male dalla società, insomma in poche parole. Io non posso che dire che a Carlitos Tevez do tutto il mio grazie dal profondo del cuore per le gioie che mi ha dato, per le meravigliose partite a cui ho assistito e per il fatto che lui ci ha onorato di vestire la maglietta bianconera. Adesso do con grande piacere la parola al mio e vostro amico Ludovico Longhi che vi spiegherà bene chi era Carlitos Tevez. A te la parola Ludo. Max, buonasera amiche ed amici juventini. Continuiamo questa galleria di video dedicata ai grandi campioni delle Juventus con un giocatore che sembra veramente uscito dagli schermi di un cinema, vale a dire Carlitos Tevez. Tevez viene soprannominato La Pache perché nasce in un quartiere malfamato di una città, la cittadella, limitrofa alla capitale Buenos Aires. Un quartiere molto molto a rischio, tant'è vero che lo stesso Tevez da piccolo, quando ancora non aveva un anno, subì un incidente domestico che gli lasciò questa notevole cicatrice nel collo e che gli conferisce un carattere ancora più aggressivo di quello che lui naturalmente non abbia. Tant'è vero che a me ricorda molto da vicino un personaggio dei fumetti e anche del cinema come Hellboy. Superate le difficoltà contestuali del suo quartiere riesce a trionfare nel mondo del calcio grazie a una dose altissima di impegno prima nella squadra della parrocchia Santa Chiara e poi in tutte le altre squadette fino ad arrivare a giocare nella sua squadra del cuore, il Boca Juniors. Lì si mette in mostra, non solo nella stessa argentina, se no tutto Sud America e viene comprato da una delle più importanti squadre brasiliane, il Corinthians. Da lì si vince il campionato, si mette in luce internazionalmente, intercontinentalmente e a proda alla corte del West Ham insieme a un suo amico rivale, visto che veniva dal River Plate, Xavier Mascherano. Nel West Ham, in Inghilterra, milita un solo anno e riesce a contribuire alla salvezza della sua squadra dalla retrocessione. Nello successivo, lo stesso Sir Alex Ferguson lo vuole nel suo Manchester United, squadra che lo prende in prestito per due anni e nella quale lui realizza una caterva di gol, vincendo addirittura non solo il campionato ma addirittura anche la Champions League insieme con il nostro Cristiano Ronaldo. Finito la sua esperienza con lo United, clamorosamente viene comprato dalla squadra rivale della stessa città, vale a dire il City, che nel frattempo ha dietro i famosi Sheik. Nel City milita 4 anni, anche lì realizzando una serie sterminata di gol, mettendosi in luce per le sue doti di aggressività, di cattiveria, di velocità e di potenza della realizzazione. In seguito a una lite con l'allenatore Roberto Mancini e anche per la sua necessità di cambiare di contesto, viene finalmente preso dalla nostra amata Juventus nell'estate del 2013. Con noi rimane due anni, due anni straordinari, nel quale appunto lui illustrò tutte le sue doti di giocatore. Ricordo fra tutti un gol che fece contro l'Empoli nel 2015, nell'aprile 2015, in una punizione a due, tra pochi metri un tiro sotto la traversa che nessuno riuscì a, nel portiere, nella barriera sulla linea, riuscì a fermare. Il nostro Carlito Tevez era molto conosciuto, ci lasciò raccordi straordinari, soprattutto per le sue varie celebrazioni. Molto divertenti, però sempre vincolate con il suo interesse per il sociale. Quando lui parlava di Forte Apache ricordava ancora le sue origini e ricordava il fatto che lui aveva fondato una fondazione, scusatemi il gioco di parole, con la quale lui mette a disposizione i suoi guadagni, gran parte dei suoi guadagni, per riscattare i bambini e i giovani ragazzi dalla strada attraverso appunto il calcio. È per questo motivo che giù proprio nella zona in cui lui è nato che hanno dedicato questo straordinario Murales. Forse è il giocatore più conosciuto in Argentina, più abato dopo lo stesso Maradona. Tevez, grande campione quindi nella cancia, nel campo e anche fuori dal campo. Ciao Carlitos e grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.